un cordiale saluto buongiorno ben ritrovati a tutti cari telespettatori di Fano TV sul canale 17 come tutte le mattine abbiamo la rassegna stampa che sta per cominciare con l'almanacco del giorno il santo di oggi oggi la chiesa ricorda la beata vergine Maria del Rosario il mese di ottobre è il mese del Rosario allora ne approfitto anche per dire che Fano TV ha il canale 216 che è televoce cristiana che ogni giorno alle 15 trasmette da una cappellina che si trova qui adiacente ai nostri studi dentro la struttura di Fano TV una cappellina che trasmette dove si trasmette alle 15 la coroncina la divina misericordia del santo rosario tutti i giorni in diretta il sole è sorto alle 7 e 12 tramonta alle 18 e 40 tempo da lupi tempo da lupi questa mattina ancora deve schiarirsi il giorno deve arrivare guardate qua che fotografia che è scattato un secondo fa la nostra webcam la webcam sempre disponibile nella nostra pagina dell'osservatorio meteorologico di Fano TV questa è la fotografia c'è un temporale in atto alle 7 e 30 del mattino che tra l'altro abbiamo annunciato con tanto di traiettorie alle 7 già sulla pagina reporter di strada che è un altro servizio un'altra un'altra iniziativa della redazione di occhio alla notizia 18 gradi 18 gradi è la temperatura a quest'ora mentre sulla pagina della protezione civile andiamo a vedere le previsioni per oggi mercoledì 7 ottobre avremo cielo nuvoloso con attenuazione della copertura solo dal tardo pomeriggio avremo durante la mattinata a rovescio temporali sparsi probabilmente più 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 probabili sulle zone interne ma come abbiamo visto stando qui sulla costa le il temporale è scivolato anche lungo tutta la 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 riviera temperature diminuzione venti deboli occidentali poi diventeranno moderati dalla tarda mattinata il mare mosso giovedì 8 domani ancora cielo nuvoloso precipitazioni eh nella prima parte della giornata con piovaschi sparsi eh più insistenti sulla costa eh della provincia pesarese temperature in ulteriore diminuzione anche se lieve poi i venti di brezza teso moderati da settentrione per venerdì 9 ottobre il cielo eh sulla costa migliora eh quindi si schiarisce un po' anche se ci sono residui e isolati piovaschi sul settore appenninico nel pomeriggio le temperature in lieve diminuzione i venti di brezza leggera il mare da poco mosso a quasi calmo questa è la previsione per venerdì 9 una debole circolazione ciclonica attenzione continua a favorire brevi fenomeni di instabilità per il fine settimana questo nelle marche in realtà poi come vedremo o come eh vi racconterei vi raccontano e ci raccontano un po' le previsioni nazionali questa situazione ciclonica peggiora invece e porta eh alluvioni e danni eh porterà purtroppo sicuramente anche nella in alcune regioni del meridione andiamo un attimo sulla webcam esterna vediamo se è possibile con ecco questa è la situazione del tempo in atto in questo momento eh possiamo chiamarla bomba d'acqua non lo so forse però sicuramente vedete buio eh la temperatura e o meglio le precipitazioni sono intensi in questo momento almeno sulla eh città di eh Fano il traffico è scorrevole qui siamo nelle parti di Porta Maggiore siamo nelle parti della zona del Pincio a Fano e questa è la situazione in questo momento quindi se vi state per mettere in auto ecco sappiate che sicuramente ci sarà comunque del traffico adesso andiamo a vedere subito i quotidiani come sempre il resto del Carlino il Corriere Adriatico ed il Messaggero cominciamo dalla cronaca dalla cronaca sulla pagina di Pesaro dell'edizione quotidiana di oggi del resto del Carlino perché in via Cavour un dipendente è stato preso assediate dal suo datore di lavoro è successo in un kebab ed è stato arrestato ovviamente il titolare c'è stata questa sanguinosa lite con il cameriere che è rimasto colpito ad un occhio i medici eh disperano e sperano di salvare l'occhio del malcapitato pakistano e mentre questa eh persona che vedete nella fotografia e che mostra la maglietta eh strappata è il titolare che poi è stato arrestato sull'altra pagina del giornale sempre del resto del Carlino un caso di stalking purtroppo la vittima è un sacerdote perseguitato da un albanese al quale aveva dato ospitalità il prete è eh don Lorenzo Volponi della parrocchia di Osteria Nuova che aveva dato un tetto dopo un periodo di carcerazione a questo eh a questo albanese di venticinque anni che poi è stato denunciato a piede libero per stalking nei confronti di un eh sacerdote prima il parroco atteso che le cose si calmassero eh da sé poi invece ha capito che serviva a chiamare i carabinieri perché ehm questa cosa andava avanti eh urla insulti insomma una vera persecuzione spezzata solo all'ultimo difficile scrive eh spiegare questo odio senza ragione nei confronti del sacerdote difficile capire il motivo dell'improvviso e prolungato astio di questo giovane albanese contro appunto don Lorenzo. La pagina di Fano tre milioni di euro per le superiori la provincia annuncia la messa in sicurezza delle scuole un milione e duecentomila euro al Battisti sarà riparata l'ala del palazzo che attualmente ospita l'Olivetti sospesa la nomina del nuovo coordinatore eh parliamo dell'ambito territoriale alla guida resta per ora dunque eh mandolini arriva il meccatronico eh chi ripara automobili deve essere illuminato ovviamente il titolista del resto del Carlino gioca con i titoli perché eh in realtà si parla eh di queste due figure professionali importanti per chi guida le automobili sono l'elettrauto e il meccanico diventeranno un'unica figura ecco perché diventa il meccatronico eh aiutiamo le attività eh poi lezioni di inglese a cento soci della banca di credito cooperativo è una possibilità che viene offerta dalla banca gratuitamente quindi se volete imparare l'inglese c'è questo corso gratuito festival della letteratura invece verdetto in arrivo dieci finalisti in lizza saranno gli studenti delle scuole superiori a scegliere da venerdì a domenica tre giorni di conferenze narrazioni cinema e fumetto lasciamo il Carlino adesso apriamo il Corriere Adriatico il giornale delle Marche creava società fantasma siamo sulla pagina di Pesaro per ottenere dei voti eh per farsi votare così un passaggio delle motivazioni della sentenza che è radiato dalla federazione nazionale Pentathlon eh Lucio Felicita ex campione pesarese e presidente della federazione negli anni duemila e duemila e dodici per i sessanta soci scatta la prescrizione depositate le motivazioni della sentenza sistema pianificato tavolino il ruolo nelle delle intercettazioni invece da Fossombrone c'è la caccia caccia ai furbetti della differenziata cioè coloro che si ostinano a buttare tutto nel unico sacco della spazzatura e di non separare dunque i rifiuti in azione le micro telecamere ma i conferimenti abusivi si moltiplicano tre milioni per l'edilizia scolastica sulla pagina di Fano del Corriere gli investimenti riguardano Fano le voci maggiori per il Torelli e per il Battisti si progetta di trasferire la Polloni risorse sono state stanziate anche per la pista ciclabile per Fenile e la manutenzione dell'Arzilla piano regolatore da rivedere per infrastrutture scuole e ambiente le tre direttrici dell'elaborazione del nuovo strumento urbanistico per qualificare lì la città un documento a parte per il centro storico frazioni valorizzate per vocazione e paesaggio oggi si presenta il progetto dell'area ex zuccherificio bando ritirato coordinatore ristruttura l'ambito il comitato dei sindaci ha dato mandato a mandolini di definire il nuovo modello operativo necessarie e qui ci fermiamo un istante vi ricorderete il piccolo federico mezzine il bambino che è affetto dal morbo di crab ebbene purtroppo la notizia che poi gli stessi genitori hanno dato attraverso i social network dopo l'interruzione delle cure il piccolo sta peggiorando e allora sono necessarie cure all'estero ecco perché il papà e la mamma del piccolo federico stanno lanciando in questi giorni questo appello perché da come si legge sul giornale di questa mattina siamo costretti dicono i genitori ad andare in paesi esteri per praticare una terapia con staminali una terapia non sostenuta dal sistema sanitario nazionale e purtroppo ogni ciclo di trattamento ha un costo di circa 30 mila euro per questo la famiglia chiede un piccolo aiuto affinché tanti piccoli gesti possano contribuire a dare la vita allora sul giornale ma vedremo adesso di metterlo anche sul nostro sito internet e di approfondire anche noi questa cosa sul giornale c'è ci sono le coordinate il conto corrente bancario intestato all'associazione una speranza per federico onlus c'è l'iban tutto quanto ecco chi può chi può a cominciare da noi cominciare da noi che chiediamo la notizia adesso quello che possiamo fare lo facciamo ecco anche se fossero 10 euro anche fossero 50 euro chi può faccia questa dia questa mano e aiuti questa famiglia ripeto a cominciare da noi che stiamo qua a predicare dalla televisione saltare serungarina fusione più vicina il sindaco il progetto non si ferma qui verso l'evoluzione dell'unione dei comuni della valle del metauro la strada si sta spianando dunque si sta ragionando per altri due comuni che potrebbero fondersi prossimamente dalla pagina di senigallia invece del corriere adriatico il problema è la piaga dei furti delle truffe la finta amica questa finta amica che entra in casa di una 84enne e la truffa il fatto viene raccontato su facebook poi condiviso dall'ex presidente della provincia patrizia casagrande aiutateci nostro figlio fuma droga genitori in lacrime si rivolgono al commissariato di senigallia il dirigente licare dice priorità ai controlli tra i ragazzi e a proposito di di ragazzi di giovani la notizia che tra l'altro vi abbiamo dato anche ieri sul nostro telegiornale eccola qui la leggiamo dal messaggero cercano ladri arrestano spacciatrici la squadra mobile sorprenda le rive che è un quartiere di pesaro due amiche ventenni quindi giovanissime trasportare in scooter pensate 91 ovuli di hashish due ragazze due amiche di 21 e 23 anni quando sono state fermate non hanno fatto una piega tutte serie hanno fatto vedere questa busta dove all'interno c'erano 91 ovuli di hashish quindi per un peso complessivo di 750 grammi di droga la pagina di fano scuole a palazzo petrucci la futura sede della polloni oltre 3 milioni di euro di investimenti dall'ente dalla provincia di via appunto che si trova in via gramsci a pesaro per l'edilizia scolastica fanese e quindi l'ambiente del territorio fanese comune provincia valutano il trasferimento dell'istituto artistico un'altra importante novità dopo le due sezioni della cecca e del codma poi la marineria prepara e si prepara a dare l'addio a gabriele detto lele legaggi 56 anni il comandante del motopesca palissandro stroncato da un malore nella mattinata dell'altro ieri quando era in mare per la solita battuta di pesca per catturare alici e sardine non sappiamo ancora la data e l'orario del funerale ci hanno detto di aspettare l'autopsia ha detto ieri maurizio omiccioli l'armatore del palissandro e sempre il messaggero pubblica qui di spalla un'altra notizia il processo in sei per quanto riguarda il pesce azzurro l'incendio al pesce azzurro in sei finiscono alla sbarra per il rogo doloso fu suo l'ordine di dare fuoco al pesce azzurro un modo veloce definitivo per mandare in fumo la concorrenza questo almeno secondo le ipotesi della procura di pesero il pm e maria letizia fucci che per l'incendio del 2010 che devastò il noto ristorante al porto di fano aveva iscritto nel registro degli indagati l'imprenditore giovanni piccoli e altre cinque persone tra cui due proprietari di un locale concorrente e due grossi esponenti di spicco della criminalità pugliese ieri mattina ha preso il via nel tribunale di pesero il processo contro i sei imputati davanti al giudice monocratico paolo de luca sotto invece marchegiani e fulvi marchegiani scusate dice fulvi presidente e fanesi settimo assessore il punto di mediazione era rosetta fulvi alla presidenza del consiglio comunale al posto di minardi eletto in consiglio regionale e cristian fanesi settimo assessore della giunta serie con probabile delega ai lavori pubblici che attualmente è di marco paolini che tra l'altro ieri era nostro ospite qui a affano tv sarà uno dei temi che tratteremo questa sera nel corso di primo cittadino prima cittadino è l'appuntamento con il sindaco i sindaci anzi da quest'anno c'è la novità che non è solo un'esclusiva del sindaco di fanno ma dei vari sindaci del territorio che sono fanno parte del territorio illuminato dal nostro segnale quindi per esempio che credo settimana prossima ci sarà ancora un altro sindaco quindi questa sera però dopo il telegiornale ci sarà il sindaco di fanno massimo serie al quale chiederemo chiederemo se è confermata questa cosa di fulvi presidente del consiglio rosetta fulvi e cristian fanesi settimo assessore con delega alla ai lavori pubblici al posto di marco paolini perché come si diceva c'è anche un rimpasto come si chiamano in questo caso rimpasto di deleghe. La rassegna stampa finisce qui io come sempre vi ringrazio per averci seguito vi auguro una buona giornata e vi do appuntamento a questa sera alle 20 e 30 con occhio alla notizia. Arrivederci. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.